È ricominciata, dopo la sospensione a causa del Covid-19, la seconda visita pastorale del Vescovo delle Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino. Dopo le zone pastorali di Assisi e Nocera Umbra, è stata la zona di Gualdo Tadino ad essere interessata dalla presenza del Vescovo, che venerdì 6 maggio è ripartito dalla parrocchia di Santa Maria del Piano. Monsignor Sorrentino ha incontrato sacerdoti, religiosi, laici, membri dei consigli parrocchiali e dei movimenti cristiani, giovani catechisti, operatori caritas, rappresentanti dei movimenti pastorali e l'intera comunità parrocchiale. Il Vescovo ha tra l'altro incontrato il personale e gli operai della fabbrica Flea, ha ufficiato la Santa Messa con la partecipazione della comunità ucraina di Gualdo Tadino, colloquiato con i catechisti e partecipato alla veglia di adorazione animata dai ragazzi e dai giovani della comunità gualdese, che hanno ricordato la figura del beato Carlo Acutis. Oltre a inaugurare i nuovi locali della Caritas Diocesana della Vicaria presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, Sorrentino ha partecipato all'incontro con i ragazzi e i loro genitori, confessato i Cresimandi e incontrato le autorità civili e religiose. Domenica 8 maggio la Santa Messa presieduta da padre Rosario Gugliotta, segretario della visita pastorale, a seguire la celebrazione eucaristica con l'amministrazione della Cresima.